Mi considero un autore con poca fantasia e quindi ho bisogno proprio di realtà. Io amo questo lavoro perché mi impone delle costanti scelte, mi impone di cercare di studiare. In fase di ricerca, ho lavorato molto col fumetto storico, è in assoluto la cosa più interessante. Per me la realtà è pane, burro con panatico, è una parte essenziale del mio lavoro. Io mi considero un autore con poca fantasia e quindi ho bisogno proprio di realtà. Per me la realtà è senz'altro banale dirlo, ma è senz'altro supera la fantasia nove volte su dieci, se non di più. Io sono un fumettista ancora, diciamo, analogico, molto legato alla carta, anzi direi proprio all'attrito della carta, del pennino sulla carta. Non c'è una vera e propria sceneggiatura quanto un timone. Ecco qua vedete parzialmente quello che è un timone di un libro. Un timone significa disegnare in piccolo, come vedete, tutte le pagine della storia, magari usando dei colori per differenziarle da scena a scena e poi successivamente lavorare su storyboard parziali, su singole scene, eccetera. Non ho una vera e propria sceneggiatura quindi su cui lavorare. E per te è importante avere ben chiaro dove partirai e dove arriverai oppure ti capita di lavorare non sapendo la fine? Per me è importante che non ci sia, quando faccio le mie storie, un prima e un dopo, cioè una fase di scrittura e una fase di disegno, ma che sia un continuo avanti e indietro tra le due fasi, che ci sia un osmosi tra le due fasi. Penso che sia uno dei vantaggi del fare entrambe le cose, cioè lavorare sia sul testo che sui disegni e tenere il più a lungo possibile aperte le soluzioni che vengono man mano che si approfondisce il lavoro. I fumetti hanno una grande possibilità che è proprio quella di incrociare le storie anche non solo con tematiche diverse, ma anche proprio di dimensioni diverse, cioè grandi storie che vanno per centinaia di pagine come storielle che si chiudono in poche pagine, quasi come uno zoom che si avvicina molto a un oggetto da filmare piuttosto che allontanarsi a chilometri di distanza. Ecco, questo zoomato in avanti indietro narrativamente parlando che si possono fare facilissimamente coi fumetti mi sono senz'altro tornato utile in fan proprio perché volevo dare l'idea come dicevi tu di una griglia di storie che potevano incrociarsi potevano essere correlate tra loro ma anche no, proprio come delle parole di un cruciverba che troviamo veramente inserite con la massima casualità una dentro l'altra. L'idea di appunto oltre che raccontare appunto la storia del cruciverba creare una sorta di cruciverba a fumetti è stata la base appunto della scelta della struttura di questo libro. L'ultimo Dylan Dog uscito che dovrebbe trovarsi ancora in edicola dove ho aggiunto una prima pagina prima proprio che inizi la storia fumetti dilatando quella che era l'inizio della sceneggiatura di Riccardo Secchi e facendo questa tavola abbastanza contraddittoria rispetto alle regole Bonelli ma perfetta per il mood della storia per portare il lettore nel mood della storia tavola che replico in versione dark più o meno a metà della storia da qui in poi la storia prende una piega completamente diversa e la cosa viene sottolineata appunto dalla ripetizione di una tavola del genere. Io credo che sia un grande privilegio quello di poter lavorare ancora oggi siamo nel 2020 una storia seriale che finisce in edicola in bianco e nero di questo genere su questa carta giallina molto cheap molto ma è bellissima secondo me ecco credo che sia cento pagine di puro fumetto no che è ancora molto popolare molto letto molto seguito il lettering è molto importante nei fumetti ed è anche uno degli elementi sottovalutati ingiustamente è importante perché appunto è proprio la voce la voce dell'autore che racconta o attraverso la voce dei personaggi o attraverso le didascalie e quindi deve essere deve essere quel giusto mix tra specialmente appunto quando si tratta di libri di graphic novel quel giusto mix tra leggibilità ma anche coesione col disegno coesione grafica col disegno senz'altro le riviste erano all'apice le riviste cosiddette riviste autore ce n'erano tantissime negli anni 80 quando ho cominciato e ho cominciato anche facilmente grazie proprio al fatto che le riviste abbondavano e quindi anche un autore sconosciuto poteva pubblicare accanto ai grandi autori noti senza grosse responsabilità non dipendeva da lui il successo o meno di una rivista è cambiato tutto ecco trovandomi a metà tra questi due mondi credo che mi sia rimasto anche un imprinting appunto legato al caro vecchio personaggio è bello di una storia a fumetti dovevo disegnare la piazza davanti al teatro alla scala nel 1911 e trovo una foto bellissima della piazza di Sant'Ela Scala in quel periodo in cui tutte le persone stavano camminando leggendo cioè come noi adesso camminiamo con il nostro smartphone in mano allora tutti camminavano leggendo il giornale ed era esattamente uguale ad una foto che potremmo fare adesso in quella stessa piazza c'è qualcosa che accomuna il novecento al nostro secolo e che cos'è? la necessità di sapere di essere informati di essere aggiornati in tempo reale quasi in tempo reale sulle cose e questo mi ha dato la libertà di pensare a delle immagini e dargli un appile estremamente contemporaneo cioè che cosa è che muove le motivazioni politiche dei miei personaggi in quella storia è la necessità di essere nel loro presente e di pensare al loro presente come un futuro e viene esattamente da quell'immagine lì che è di una documentazione storica se la ricerca di un fumettista si fermasse saremmo morti e non faremmo più nulla no io amo questo lavoro perché mi impone delle costanti scelte mi impone di cercare di studiare in fase di ricerca io ho lavorato molto col fumetto storico è in assoluto la cosa più interessante tutta la ricerca iconografica la scelta dei perché dei per come di che immagine usare quali reparti iconografici utilizzare quali fonti utilizzare un po' un lavoro quasi da storico dell'immagine talvolta faccio delle colorazioni digitali talvolta no in genere mi piace molto usare il bianco e nero in questo caso? in questo caso avremo un bianco e nero è dato con il pennello e con il pennino perché mi piace molto il contrasto fra il bianco e il nero mi piace molto in cui le linee riescono a sottolineare certi dettagli delle ombre e a volte a scomparire per lasciare al lettore la capacità di completare però quello che mi interessa di questo libro è che è uno spazio narrativo per me nel senso che è il primo libro che faccio che non ha nessuna attinenza con personaggi reali non ha nessuna attinenza con fatti storici i personaggi sono tutti inventati si muovono in uno scenario che ha dei tratti di realtà dei tratti di non realtà e è ambientato in un in un contesto che è completamente lontano da me cioè il mondo del motociclismo femminile e ho scelto opposta questo mondo da una parte perché mi affascinava questa idea del raccontare spostandosi e dall'altra perché mi permetteva di esplorare qualcosa di molto lontano e quindi ho deciso che questo spazio doveva essere un mio spazio creativo che spero di poter portare avanti per il futuro dove ho totale libertà d'azione sia di creazione linguistica che di creazione narrativa a questo disegno che vediamo e lo vediamo come un disegno unico come in effetti è stato immaginato io aggiungo una cornice bianca quindi vado a creare la divisione in vignette vediamo che lo stesso disegno come hanno fatto tanti nel mondo del fumetto prima di me viene diviso in vignette come se io inserissi un arco temporale di lettura abbiamo la prima lettura che è lo spruzzo della fontana ci spostiamo verso destra e vediamo questo cielo opaco senza stelle andiamo sotto inquadriamo il cortile e qui vediamo il nostro protagonista che arriva con il cane diciamo questa potrebbe essere una splash page però con diciamo in cui si cerca di indirizzare lo sguardo del lettore perché alla fine potrebbe essere vista anche tutta nella sua interezza si viene percepita la cosa bella del fumetto è che quando noi guardiamo una tavola viene sempre percepita la tavola in modo grafico nella sua interezza e poi a seconda delle percorsi che ha creato l'autore attraverso le vignette attraverso quello che c'è nelle vignette stabiliamo una sorta quasi di percorso obbligato in cui l'occhio del lettore viene ingaggiato in cui in pratica si mette in attivo la narrazione mi sembra che in questi ultimi anni siano cresciute le pubblicazioni ma siano cresciute anche gli autori che hanno voglia di utilizzare questo linguaggio e questo mi sembra il dato più importante la forza del fumetto è sempre che ha vissuto sotto traccia abbastanza incurante di tutta una serie di evoluzioni di carattere editoriale credo che quella sia l'anima che il fumetto mantiene sempre cioè la capacità di muoversi all'interno dei movimenti editoriali diciamo rilevanti sul piano commerciale e poi la capacità di vivere ad un livello più underground più vitale più proprio di necessità espressiva e quell'aspetto lì è quello che mantiene il fumetto sempre in vita e che Grazie a tutti.